Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi è martedì 29 settembre 2015 e questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17, come sempre in diretta alle 7 e mezzo del mattino. Allora sono 13 gradi, 14 gradi la temperatura fuori, c'era un bellissimo arcobaleno fino a qualche istante fa, ma mi pare che ormai l'abbiamo perso, volevo farvelo vedere in qualche telecamera, questa è quella indiretta che punta su Porta Maggiore, vedete c'è un timidissimo sole che si contrasta con le nuvole e che quindi crea quel cielo nero nero, ma siccome c'è ancora qualche gocciolina d'acqua di pioggia in cielo, con il sole ovviamente crea l'arcobaleno ed era un bellissimo arcobaleno fino a qualche tempo, fino a qualche minuto fa. Vediamo l'altra invece immagine, no anche qua non ce l'abbiamo altrimenti nasceva proprio qua e terminava nel nostro caso, poi ognuno a seconda di dove lo vede. Però comunque questo è il tempo a quest'ora del mattino, per oggi non ci sono grosse novità dal punto di vista meteorologico, c'è questa perturbazione che porta comunque deboli, rovesci sparsi nelle zone interne della regione che hanno sconfinato anche sulla costa fino, come dicevo poco fa, quando è piovuto, temperature stazionarie o in lieve diminuzione, i venti sono di brezza tesa da nord con locali raffiche fino a vento moderato lungo la costa. Per domani, mercoledì 30 di settembre, ancora tempo nuvoloso, con nuvole medio basse, rovesci sparsi più probabili nelle zone dell'entroterra, nella parte settentrionale, quindi la provincia di Pesaro e Urbino. Le temperature sono senza variazione di rilievo, i venti di brezza tesa da nord, il mare sarà mosso. Per il primo di ottobre, primo di ottobre è in arrivo questo ciclone mediterraneo, tra il primo e il due ottobre, qui nelle Marche qualche effetto lo porterà, avremo comunque precipitazioni deboli, temperature stazionarie e il mare sarà mosso. Condizioni di debole instabilità permetranno per il fine settimana con cielo nuvoloso e qualche debole precipitazione. Un probabile miglioramento del tempo da metà della prossima settimana. Mi stavo dimenticando una cosa molto importante, i Santi di oggi, ai ai ai, oggi sono gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, come ci ho pensato fino a prima di andare in onda e mi sono dimenticato, invece è importante oggi, una giornata molto importante per chi ci crede, per chi crede negli angeli, Michele, Gabriele e Raffaele, gli Arcangeli. Il sole è sorto alle 7.02, tramonterà alle 18.55. Adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal carino di Fanno. I grillini gettano acqua sul settimo assessore, oggi c'è una seduta che vedrà il rimpasto di giunta, una seduta importante, una riunione molto calda per gli argomenti scritti all'ordine del giorno. I grillini chiedono al sindaco Seri di contrastare il disegno regionale di una creazione di un ato, ato unico e quindi una gestione unica del servizio idrico che verrà poi inevitabilmente data in mano a soggetti non completamente pubblici. Appello dei Cinque Stelle sulla privatizzazione. Poi la Proloco, la Proloco di Fanno che dà i numeri pronti a organizzare, dicono, l'accoglienza. Lucarelli parla di 125.000 presenze alle nostre manifestazioni. Sopra luogo alla Profil Glass inquinamento, l'allarme resta alto, intanto il Movimento 5 Stelle porta l'incendio in Consiglio Comunale. È necessario, dicono i grillini, sapere cosa contenevano quei fumi e cosa hanno respirato i cittadini. Capire dove questi fumi si sono riversati e che eventuali danni hanno causato a persone ed ambiente. E ancora, Sindaco e Assessore prendano atto che alcune ditte del comparto industriale di Bellocchi sono un reale problema per tutta la città e non solo per i pochi residenti. Poi invece la cronaca, i furti a Carrara di Fanno, preso con le mani in due sacchi, un cinquantenne di origine slava, la polizia lo ha arrestato, è un topo di appartamento che appunto andava a rubare nelle case. Invece famiglia esasperata, isolati ogni volta che piove, dicono a Serrungarina una situazione paradossale, sono disperati, dicono i residenti non sappiamo più a chi rivolgerci, la viabilità avrebbe bisogno della manutenzione che gli enti si rimpallano. Biosalus, a Urbino, torna il tempo dell'equilibrio naturale, si tratta di un festival, la non edizione appunto di Biosalus, un festival nazionale del biologico. Adesso sta andando molto di moda, ci sono negozi che sono davvero sempre frequentatissimi da gente che ci tiene tanto, non è come una volta, adesso sul mangiare uno ci tiene davvero tanto. Sono sempre buonissimi i sughi della nonna, sono sempre più buoni di quelli che fanno le mogli di oggi, le donne di oggi, però devo dire che tanti sono coloro che si affidano al biologico, credono al biologico e quindi c'è questo appuntamento a Urbino, questo fine settimana, sabato 3, domenica 4 ottobre, dove si parla appunto di biologico e del benessere olistico. Se avete i figli che prendono lo scuolabus, questa notizia è tutta da leggere sulla pagina del resto del Carlino, l'appalto scuolabus a una ditta di lecce, ha vinto con un maxiribasso del 14%, l'AMI è dunque finita seconda, il timore degli autisti e le perplessità del comune. È un sistema all'italiano, adesso per carità nessuno può dire nulla, però insomma quando ci sono questi ribassi bisogna sempre stare attenti perché non bisogna mettere in discussione poi la sicurezza e quant'altro con questi ribassi, se un servizio costa costa, quindi servizio di scuolabus per i bambini di Pesaro, Fanno, Vallefoglia, Petriano, Fermignano e Monte Ciccardo è stato aggiudicato ad una ditta di lecce, la Vincenzo Tundo SRL, la quale ha appena vinto la gara d'appalto indetta dalla provincia da 8 milioni di euro per 6 anni di servizio. Fino adesso questi bambini, centinaia di bambini delle scuole e di questi comuni prendevano prevalentemente adriabus che in questa gara d'appalto però, come scrive Damiana sul resto del canone di questa mattina, è arrivata seconda. Recuperata la tela rubata in chiesa, siamo sul Corriere Adriatico, il quadro di Sant'Anna sparito dalla parrocchia di Santa Caterina che è stato, questo quadro ritrovato in una cappella privata all'interno di un cimitero e qui vedete Don Diego Torres che ringrazia il dirigente Lucio Pennella per il lavoro che hanno svolto gli agenti della polizia e quindi il ritrovamento, ringrazia per il ritrovamento di questo quadro. Sindaco, siamo sulla pagina di Fano, si batta per l'acqua pubblica, lo chiedono i 5 Stelle che scrivono una lettera aperta a Massimo Seri temendo il disegno regionale di affidare il servizio a ERA. Cinque richieste in vista della riunione di oggi di un gruppo ristretto per una revisione del lato. I dipendenti della Croce Verde riassorbiti dalla Croce Rossa italiana, si chiude così l'avvertenza ma resta il rischio di 44 licenziamenti nel settore, il sindacato intanto chiede all'area vasta gli stipendi arretrati. C'è una ditta di Mondolfo, la Corchi, che è in difficoltà, opera in stato di agitazione, l'azienda annuncia, preannuncia licenziamenti e delocalizzazione in Croazia. Oggi incontro con i sindacati. Poi gli 85 dipendenti temono che un altro reparto possa essere investito dalla chiusura nei prossimi mesi. Unione, siamo sulla pagina di Pesaro del Corriere, accorpate quattro funzioni. Da ottobre servizi informativi, statistiche e protezione civile verranno uniti. Ancora attesa invece per la Polizia Municipale. Ieri la Giunta marchigiana ha approvato la proposta di legge per la fusione di Pesaro e di Monbaroccio. La Regione, e di questo si occupa il messaggero in prima pagina, la Regione approva la fusione. L'unione tra Pesaro e Monbaroccio incassa il Sida e la Giunta Ceriscioli. Ora il referendum, clima teso, venerdì altra assemblea con i due sindaci. Intanto Urbino pensa ad un maxi comune. Anche qui a centro pagina vedete il quadro miracoloso, questo quadro raffigurante Sant'Anna che è stato rubato agli inizi di agosto nella chiesa di Santa Caterina ad Urbagna e che questo quadro è venerato dalle partorienti per quelle che appunto devono partorire. Piano, lista di attesa invece. Accordo Regione Medici. Oggi tutta la manovra. Confermate le visite nei festivi e l'avvio del sistema di prenotazione a cura dei medici di famiglia. Ceriscioli ieri ha voluto, riapriamo la pagina, Ceriscioli, no, l'altra pagina, questa è sparita completamente, è sparita, che devo fare? È sparita. Vabbè. Andiamo sull'altra pagina di Pesaro del messaggero. La Regione dice sì a Pesaroccio. La Giunta vota la proposta di legge per unire Monbaroccio a Pesaro. Il governatore Ceriscioli dice questo è il cambiamento. Il referendum si terrà tra due mesi. Venerdì il sindaco Ricci e il collega di Monbaroccio Vichi si preparano ad affrontare i monbaroccesi in un'assemblea che si annuncia ad alta tensione. Quindi venerdì sera. L'obiettivo resta lo svincolamento dei fondi ancorati al patto di stabilità, ma il Viminale potrebbe opporsi. E dunque, insomma, attenzione, bisogna fare attenzione su questa cosa perché sono aumentate droga, rapine e violenze sui minori. Sono parole del giudice Cormio che lascia dopo 40 anni. Non ho mai voluto fare il PM, dice, e mi interessa più la famiglia che la carriera. Dal primo di ottobre, dice, andrò a funghi e mi dedicherò alla mia passione da sub come istruttore. Ancora, non solo tavoletto, in cantiere c'è un maxi comune da 23 mila abitanti. Urbino ha avviato contatti anche con Auditore Montecalvo e Pedriano, ma Fabrizioli frena. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. Dal nuoto al calcio, lo sport fanese ha fame di nuovi impianti. Per l'assessore Caterina Delbianco le due strutture sono ritenute una priorità. Il palatenda del centro tennis non basta più a soddisfare le esigenze. La crescente popolarità del calcetto chiede una sede adeguata. Il comune convoca le società per trovare una soluzione condivisa. A Gimarra, dove quando piove c'è il problema di tante pozzanghere, per ovviare questo problema ci verranno installati più tombini in Viale Romagna, soprattutto per eliminare le pozzanghere. Poi arrivati altri 12 rifugiati sono tutte donne. 12 giovani donne provenienti dall'Africa formano il primo nucleo della nuova comunità per rifugiate, aperta ieri mattina a Ronco Sambaccio dalla cooperativa sociale Labirinto. E sotto, sopra luogo alla Profilglas dopo l'incendio, accertamenti sul tipo di materiale bruciato, preoccupazione tra i residenti. In Consiglio Comunale invece il voto sul Cecchi, l'istituto agrario che dovrebbe aprire una sede distaccata al Codma di Rosciano di Fano. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia, arrivederci.